Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Marco Apicella e il Burbero. Allora Marco ti chiedo innanzitutto, cosa si prova a raggiungere un risultato come questo, il final table, emozionato oppure rilassato? Ma sinceramente un po' di emozione c'è, anche se sono abbastanza rilassato, sono molto concentrato, a giudicare da quello che era successo ieri sera, nell'ultima mezz'ora non mi aspettavo di stare qui in questo momento, perché ero passato con poche fish, però comunque non avevo mai perso la speranza e avevo intenzione comunque di spingere fin dai primi minuti di gioco, sono arrivato un po' in ritardo oggi perché dormivo, mi ha svegliato Matteo, sono arrivato con 10 minuti di ritardo e forse è stato bene. Matteo sappiamo che avete fatto il viaggio insieme, giusto? Gli hai portato bene quindi? Non solo gli ho portato bene, guarda oggi lo sono andato a svegliare perché era crollato, nello stesso tempo io sono la sua mascotte e nello stesso tempo sono il suo socio e non a caso gli sto accanto attimo per attimo. Grazie a tutti gli amici che ci stanno seguendo e in bocca al lupo a tutti e soprattutto al nostro Marco. In bocca al lupo, in bocca al lupo per il final table. Ciao a tutti amici. Ciao, grazie.